Mi chiamo Cinzia Armaiuoli e sono un'imprenditrice. Che cosa mi sta piacendo? Di questo corso mi piace molto la condivisione e la messa in pratica di quello che stiamo facendo. Non è soltanto teoria e quindi c'è un apprendimento molto molto veloce. Sicuramente quello che mi è rimasto più impresso è visualizzare, la visualizzazione di quello che sarò da qui a fine dell'anno, da qui a cinque anni. Quindi vedermi in un determinato contesto e vedermi in un luogo specifico magari quello che mi farà stare bene. Alla fine è quello che voglio, quindi stare bene. Grazie. Grazie. Grazie.